Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Il Mondiale Blitz, che si è concluso da pochi giorni e che ha visto protagonista il grande maestro francese Vacher Lagrave, ci ha regalato tantissime bellissime partite. E allora non potevo non portare nel canale YouTube Scacchista Matto la partita tra Lagrave e Karsen. Una partita fantastica, piena di colpi di scena e capovolgimenti. E allora vediamola insieme. Prima di tutto, se non l'hai già fatto, ti invito a cliccare sotto e iscriviti per non perdere i prossimi video. Ho visto che moltissimi di voi sono iscritti nell'ultimo mese, quindi vi ringrazio tantissimo. Seguite il loro ormai se invece non vi siete iscritti in modo tale da aiutarmi a crescere e supportare questo canale e soprattutto non perdere i prossimi video che usciranno nei prossimi giorni. E4, gioca Lagrave, E5 risponde Karsen, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5. Apertura spagnola, apertura che ho già commentato nel canale, quindi ve la lascio qui sopra in modo tale che posso proseguire verso il medio gioco e non soffermarmi troppo in questa fantastica apertura che io stesso gioco. A6, alfiere A4, variante principale. Cavallo F6, quindi il cavallo attacca il pedone, ma si può arroccare in questo caso perché come sappiamo se il cavallo mangia c'è poi torre 1 e si prosegue con una linea assolutamente conosciuta e molto buona per il bianco. Alfiere in E7, torre in E1 per difendere il pedone. Una volta che l'alfiere è difesa del re e allora è obbligatorio per il bianco difendere il pedone in E4. B5, alfiere in B3, arrocco corto del nero. Qui il bianco ha due linee, due varianti principali. Una è A4 e una è C3. E allora vediamo prima C3 perché l'aggrava giù da A4, quindi poi torneremo alla partita. Velocemente C3 dà luogo alla variante Marshall, una variante complicatissima, super teorizzata, ma molto molto bella e interessante. Variante che ho spiegato ancora di più nel dettaglio in un video, quindi magari andate a cercare, dovrebbe essere la playlist sull'apertura spagnola. In uno di questi video ho commettato una partita proprio sull'attacco Marshall. D5, pionne per, cavallo per, cavallo per E5. È un sacrificio? Sì, è un sacrificio di un pedone in cui il nero ha un ottimo attacco. Infatti qui poi la partita continua con C6 al piede D6, donna H4. Quindi subito la mia c'è il pionne H2. Vi consiglio, se vi va di giocare questa apertura, di studiare bene l'attacco Marshall perché è fondamentale nell'apertura spagnola. Torniamo indietro perché molto spesso ad alti livelli, quindi i grandi maestri vogliono evitare le complicazioni ed ecco perché la grave gioca A4. Abbiamo visto anche nel match mondiale tra Nepo e Karzen che hanno giocato l'anti Marshall, ovvero questa linea con A4. Alfiere in B7, l'alfiere si mette in fianchetto e attacca il pionne H4 indirettamente. D3, semplice, vuole difendere il pedone. D6, cavallo in D2. Ok, qui il nero può giocare torri in E8 oppure cavallo in A5. Vediamo cavallo in A5 perché Karzen ha giocato torri in E8. Quindi vediamo brevemente questa linea che sarà giocata da niente poco di vero che Kasparov contro l'Eko. Quindi il fortissimo e grande maestro Kasparov in questa partita ha giocato al fierino A2. E là voglio farvi vedere brevemente come sarebbe potuta continuare la partita da la grave Karzen. C5, quindi l'idea di cavallo in A5 è liberare la spinta del pionne C5 e subito creare un forte attacco nel lato di donna. Quindi C5, cavallo in F1. Il cavallo vuole invece andare in una casa migliore come E3 magari per arrivare in D5 o anche in F5. Guardate che belle sono queste due case per il cavallo. Torri in E8, cavalli in E3, H6 al fierino di D2. E in questo modo Peter Leco ha compiato lo sviluppo contro Kasparov e quindi si dà luogo a una partita con un medio gioco molto interessante in cui il nero attacca nel lato di donna, vedete, con i pedoni già avanzati. Mentre il bianco probabilmente vorrà magari fare anche una spinta in F4 o anche attaccare semplicemente con i pezzi. Quindi magari mettere un cavallo in F5 e portare questo cavallo in una posizione migliore. Probabilmente se è possibile bisogna anche valutare i tatticismi. Se si riuscisse a portare questo cavallo in F3 in F5 sarebbe anche migliore. Anche se probabilmente cavallo in F4 non funziona perché c'è cavallo per E4, peone per e alfile per cavallo. Ma stando attenti magari in futuro si riesce a portare questo cavallo in F5 ottenendo un'ottima posizione per il bianco. Ok, torniamo indietro perché su cavallo in D2 Carzen gioca torri in E8. Cavallo in F1. Il piano è lo stesso e comunque l'apertura appunto è sempre la spagnola e quindi questo cavallo certamente vuole saltare in E3 per poi arrivare in D5 e in F5. È importantissimo conoscere i piani del medogioco derivanti alle differenti aperture perché come vedete anche se il nero cambia la mossa, anche se gioca cavallo A5 o gioca torri in E8, comunque il piano è lo stesso. Quindi per questo vi invito sempre a approfondire i piani, imparare i piani e non imparare a memoria le aperture. H6, probabilmente per evitare alfile G5 che in effetti potrebbe essere fastidiosa. C3. Il bianco vuole conquistare il centro. Nella spagnola è fondamentale l'occupazione del centro ed è un'apertura che lo consente. Ecco perché a me da bianco piace molto questa apertura. Vole conquistare il centro e C3 e D4 è certamente un ottimo piano per conquistarlo. Al fine in F8 per liberare la corona E. Cavallo in E3. Il cavallo si attiva, si muove pure verso il centro. Cavallo in E7. La Grav gioca a H3, una mossa un po' di attesa. Vuole un attimo capire cosa vuole fare il campione del mondo Karsen. Cavallo in G6. Cavallo in H2. Molto interessante perché ora il cavallo può saltare in G4. Essendo difeso sia dal cavallo ma anche dalla regina oltre che dal pedone. D5. Spinta di rottura. Subito il nero vuole aprire il centro, vuole aprire le linee. Ormai ha tutti i pezzi posizionati bene. Infatti il cavallo in G6 attacca la casa F4. Il cavallo in F6 attacca il pionine 4. La torre è sulla colonna aperta. O meglio, colonna che si aprirà perché in questo momento c'è il pionine 5 e il pionine 4 che la chiudono. Ma in futuro, per esempio, dopo E per D5 potrebbe aprirsi la colonna E. L'alfiere è pure sulla ottima diagonale. Quindi i pezzi del nero, i pezzi di Karsen sono tutti posizionati bene. E allora è giunto il momento di aprire le linee e cercare di creare un attacco. E per D5. Voscella grave mangia il pedone. In realtà si potrebbe giocare pure il cavallo G4. Allora, vediamola brevemente. Su cavallo in G4, per esempio, peone per, cavallo per F6 scacco, donna per F6, cavallo in D5. È molto interessante questa mossa perché il cavallo attacca la regina e non si preoccupa di essere mangiato perché dopo l'alfiere per D5 si attacca la torre e si attacca anche il pedone. Quindi su torre in D8, alfiere per E4. E qui il bianco avrebbe ottenuto un'ottima posizione. Perché ha la coppia di alfieri. Come sappiamo è un vantaggio avere la coppia di alfieri, soprattutto nei finali. I due alfieri valgono di più, sono più forti di alfieri e cavallo. E quindi sarebbe stato un finale assolutamente buono per il bianco in questa posizione. Ovviamente ancora siamo in mezzo gioco, quindi non è assolutamente una partita vinta. Però un leggerissimo vantaggio al bianco io assolutamente lo darei. Invece la grave sceglie di mangiare subito. E per D5, cavallo per D5. Qui donna f3 gioca la grave, si poteva anche decidere di cambiare. Per esempio cavallo per D5, il tere per, cambiamo tutto. Questa posizione è assolutamente giocabile. Magari donna f3 per proporre anche un cambio di regina non c'è alcun problema. Forse l'unica debolezza del bianco è questo pionio in D3. Quindi da nero, qual è un piano che mi viene subito in mente? Quello di portare la torre in D8 per attaccare il pionio in D3, che è rimasto un po' arretrato. Come vedete il pionio in D3 non può essere difeso da altri pedoni. E quindi è assolutamente un punto di attacco per il nero. Ok, invece, dopo cavallo per D5, donna f3 gioca il francese, la grave. Cavallo h4 attacca la regina, donna in e4, cavallo per e3, mossa molto molto buona. Guardate qui che è una posizione assolutamente complicata, perché analizziamo un attimo, fermiamoci alla mossa precedente. Qui c'è una regina al centro che attacca questo cavallo, che poi comunque è difeso. Ma il punto fondamentale di questa posizione è che la regina è sulla diagonale dell'alfiere campo chiaro del nero. Quindi il cavallo può creare un attacco di scoperta. Ed ecco che la prima mossa da analizzare è certamente il cavallo per e3, ma si potrebbe anche analizzare le altre mosse. Perché non vanno altri attacchi di scoperta? Banalmente, volevo togliere le frecce, ok ce l'ho fatta. Banalmente perché se il cavallo si muove, in realtà l'alfiere viene mangiato. Quindi il cavallo è inchiodato, ma allo stesso tempo può creare un attacco di scoperta. Perché a vicenda si stanno inchiodando i pezzi. La regina inchioda il cavallo per attaccare l'alfiere, ma l'alfiere dall'altro lato sta per attaccare la regina indirettamente. Quindi muovendo il cavallo attaccerebbe la regina. Ecco perché tutte le altre mosse, quindi cavallo f6, cavallo per c3, eccetera, non vanno. Non vanno perché la regina può mangiare l'alfiere. Però cavallo per e3 è interessante. È interessante perché è vero che la regina può mangiare l'alfiere, ma il cavallo ha mangiato un cavallo appunto. Quindi sarebbe uno scambio. In realtà non è uno scambio alla pari. E infatti qui Carlsen guagna un pedone. Perché su regina per alfiere c'è cavallo per g2. Quindi il nero va un pedone di vantaggio. Anche su regina per cavallo si poteva tranquillamente mangiare il pedone. Addirittura qui si arrivava un attacco doppio. Attacco del cavallo sulla regina e sulla torre. Quindi qui assolutamente partita vinta. Quindi il bianco è costretto a mangiare l'alfiere. Il nero mangia il pedone di g2. E ottiene un pedone di vantaggio. Puigina assolutamente vantaggiosa per Carlsen. Torre in e4. Qui gioca la grav che vuole reagire. Certamente un ottimo modo potrebbe essere quello di portare la torre in gioco. Magari in g4 in modo tale si è attaccare il cavallo. Come sappiamo i due pezzi valgono di più della torre. Infatti i pezzi hanno un valore relativo. Il pedone vale 1. Il cavallo d'alfiere valgono 3. Torre 5 e regina 10. E quindi i due cavalli 3 più 3 è 6 valgono più della torre che vale 5. Dunque torre g4 è effettivamente una minaccia. Ma Carlsen non ci bala tanto e gioca la donna per t3. In realtà questo è un'imprecisione. Infatti qui Carlsen avrebbe ottenuto un ottimo vantaggio giocando torre in b8. Guardiamo questa linea che è molto molto interessante. Torre b8. Donna d5. Donna per. Alfiere per. Torre in d8 per attaccare nuovamente l'alfiere in d5. c4. Attenzione perché non funziona torre per i5 perché c'è un trucchetto. Infatti questa torre deve per forza rimanere nella straversa per difendere l'alfiere. Ma dopo alfiere d6, torre h5 e g6 rischia di perdere. Infatti se è torre per h6 la torre viene persa. E invece se ritorna indietro, per esempio, mettiamola qui, ci sarebbe alfiere per cavallo, scacco e attacco di scoperta. E l'alfiere e4, e il d5, scusate, verrebbe mangiato, verrebbe catturato. Quindi torre per i5 non funziona. E allora unica c4. Perché unica c4? Perché il bianco non vuole perdere il penone d3. La freccia troppo lunga. Il penone d3. Quindi unica c4. Come può continuare la partita? Con c6, alfiere per c6, torre per d3. E qui il nero sta meglio, assolutamente. Qui Karzen, secondo me, l'avrebbe portato a casa. Conoscendo un po' il suo gioco, lui con un lieve vantaggio, quasi sempre è praticamente una macchina, quasi sempre riesce a vincere. Eppure qui donna per d3 gioca. Ricordiamo che la partita è blitz. 3 più 2, quindi assolutamente normale fare un'imprecisione anche per giocatori del calibro di Karzen. Donna per d3, torre g4. Quindi il bianco effettivamente riesce nel suo intento. E ora sta attaccando il cavallo in g2. Attacca anche il cavallo in h4, quindi questo cavallo non può scappare. E dunque donna per h3. Torre in g3. Attacca la regina. Qui una variante potrebbe essere anche donna d5. D5, scusate, qui. Qual è l'idea di attaccare il premio f7? E effettivamente questa mossa sarebbe stata vincente per il grande maestro Vascella Grave. Qui sicuramente i giocatori sono a corto di tempo e quindi non l'ha vista. Ma donna d5 è formidabile. Perché come si difende il premio f7? Non si può difendere, quindi l'unica maniera è mettere una torre in mezzo, ma banalmente si lascia la torre in a8 in presa. Addirittura qui il bianco può fare un'intermedia in cui prima attacca la regina con torre g3 e poi può fare questo bellissimo sacrificio perché se mangia di regina banalmente l'alfiere mangia mangiando di pedone torre per regina. E qui Carcian avrebbe sicuramente abbandonato. E allora torniamo indietro perché su donna per h3 donna d5 non viene vista da Vascella Grave aveva un match point clamoroso e gioca torre g3. Donna f5 subito Carcian difende il premio f7 e ringrazia l'avversario. Torre per g2, cavallo per, donna per e qui la posizione è abbastanza pari perché il bianco è riuscito nel suo intento di cambiare la torre per i due pezzi ma ci sono un po' di pedoni di vantaggio nel nero infatti 3-4, 3-6-7 sono ben tre pedoni tre pedoni e una torre per due pezzi e quindi è molto complicata se contiamo 5 più 3-8 contro 6 addirittura sarebbe due punti di vantaggio il nero in realtà la prizione non è così semplice non è in vantaggio il nero ma direi che è abbastanza pari perché comunque il bianco ha un ottimo attacco quindi è molto molto complicata ecco perché ci sono tantissimi capovolgimenti allora vediamo subito com'è andata torre in d8, cavallo in g4 guardate che bell'attacco saccando il bianco qui si minaccia a cavallo per h6 scacco a re e attacco alla regina perché il pedone g7 è inchiodato dalla regina quindi non potrebbe mangiare ecco perché Carcian subito gioca a re h8 lampo senza pensarsi un attimo pedone per b5 pedone per si apre la colonna a come sempre bisogna guardare tutta la scacchiera ecco perché Carcian la grave un po' attacco nel lato di re ma poi pensa anche a liberare la torre nel lato di donna cavallo in e3 attacca la regina donna h5 cavallo in f1 qui la grave è veramente impeccabile e4 cavallo in g3 attacca la regina e attacca il pedone donna g6 alfiere e3 finalmente sviluppa l'ultimo pezzo l'alfiere che è rimasto a casa in questo modo la torre bianca può difendere la prima traversa ed evitare ventoli scacchi è vero che attualmente c'è l'alfiere però in futuro ma che questo alfiere vuole anche muoversi e quindi alfiere d6 cavallo in e2 si propone un cambio di regina che viene rifiutato da Carcian e donna h5 attaccando il cavallo in e2 cavallo in g3 nuovamente si cambia alfiere per cavallo pedone per torre in d3 la torre attacca l'alfiere donna f2 bisogna difenderlo f5 attenzione qui alfiere in c2 l'alfiere attacca la torre che quindi si deve muovere torna in d6 e attenzione per che ora magari si minaccia anche torre g6 attacco sul pedone in g3 re in g2 con l'idea di attivare la torre anche in h1 e minacciare attacchi contro il re avversario torre in d8 ed ecco che arriva torre h1 il bianco sta creando un ottimo attacco contro il nero donna g6 alfi f4 come vedete ogni mossa è una minaccia questo nelle blitz avviene tantissimo perché non potendo i giocatori pensare avanti di 10 mosse come il loro solito essendo grandi maestri ma avendo pochi secondi sull'orologio devono pensare subito quelle 2-3 mosse e allora è più facile proprio per il nostro cervello pensare alle minacce immediate ecco perché ogni mossa c'è una minaccia alfi f4 torre in d5 donne le due e questo è continuo il discorso può essere anche un vantaggio per chi ha magari più tempo quindi immaginate una situazione in cui giocate a tempo lungo ma il vostro avversario ha poco tempo cosa che a me accade sempre quindi se giocate contro di me vi consiglio di fare questa strategia vi conviene non fargli minacce fargli o farle minacce immediate ma minacce più sottili quindi magari una minaccia dopo 2-3 mosse quindi un piano più elaborato perché chi ha poco tempo pensa subito alla minaccia immediata quindi se tu mi giochi ora qui in questo momento ok per esempio c4 subito lo vedo che mi sembra solo la torre e la muovo e mi dai una chance di giocare una mossa veloce invece se crei un piano più elaborato per esempio sparo una donna e3 con idea al fie per h6 per non aperto re per h6 quindi un piano del genere e allora per chi ha poco tempo è un po' più complicato vederlo subito perché appunto deve giocare velocemente a pochi secondi per muovere quindi un consiglio quando avete tanto tempo e il vostro avversario è in zeitnot quindi a poco tempo create minacce più complicate c5 gioca qui il nero ma in realtà donna c6 era molto molto interessante per minacciare il re indirettamente questa minaccia è nella diagonale per esempio rene f2 b4 pedone per donna b6 scacco re f1 donna re b4 qua il nero ha un'ottima posizione guardate la colonna d è conquistata la regina eppure attacca sia la casa d2 sia la casa e1 che sono case critiche perché minaccia per esempio anche una torre d2 con l'idea di altire per torre per e poi mangiare l'altire in c2 quindi è molto molto complicato quella posizione per il bianco che è un po' sottomesso certamente una posizione passiva secondo me qui Carlsen avrebbe creato un ottimo attacco e invece c5 gioca e allora Vacellagrava ha il tempo per difendersi p3 c4 pedone per pedone per torre in f1 donna f6 donna per c4 cade un pedone donna b6 guardate come a poco a poco la grav sta migliorando sua posizione al fine in b3 si crea questa bellissima batteria e attenzione perché qui torre c5 è sbagliatissima Carlsen aveva un match point quindi un altro capovolgimento di situazione e3 vinceva guardate che bella mossa e3 si minaccia torre d2 e si minaccia anche e2 in futuro quindi torre d2 e dopo e2 per esempio qui cosa può fare il bianco da qualunque mossa c'è torre d2 quindi unica donna per d5 a questo punto alfiere per d5 ma qui dopo donna 5 si minaccia l'alfiere e il pedone e qui il nero è chiaro che vince non c'è alcun dubbio perché è vero che torre e due pezzi valgono più alla regina ma bisogna considerare anche i tanti pedoni del nero quindi c'è poco da fare se non fa donna per d5 ovviamente dopo torre d2 e2 è finita quindi qui e3 è veramente una svista di Karzen che sicuramente va a pochi secondi sull'orologio torre c5 e allora qui vincele rave non perdona Karzen sbaglia e allora donna f7 si crea questo attacco sul punto g7 torre per c3 alfiere e5 finita si attacca la torre e si minaccia matto in un attimo cambia totalmente la partita torre d2 scacco gioca Karzen rh1 e abbandona si rende conto chiaramente che qui il matto o la torre sono inevitabili di tua probabilmente è proprio il matto inevitabile infatti qui non vedo e non vedo modo per il nero per difendere il punto g7 non c'è alcun modo anzi forse torre per g3 e l'unico è no perché c'è donna g8 matto giusto non me ne ho accorto ci sono due minacci di matto sia g8 che g7 quindi chiaramente è finita svista clamorosa che da un campione del mondo non ci si aspetta ma ovviamente è difficilissimo giocare a questi livelli sempre con pochi secondi sull'orologio quindi è assolutamente normale e anzi ci dimostra che anche Karzen è umano quindi anzi è il bello di questo gioco che non è finito non c'è solo Karzen come si poteva immaginare fino a pochi mesi fa ok siamo giunti alla conclusione di questo video fatemi sapere che ne avete nei commenti come sempre vi lascio qui dei video in sua impressione e vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto e iscrivervi al canale youtube ci vediamo alla prossima ciao ciao